bene amici di telefono.net sono rimasto colpito per il design di questa di questo altoparlante ma la definirei palletta altoparlante che non ha un nome ma ha una sigla è un altoparlante bluetooth ma con attivazione nfc in teoria quindi compatibile con tutti gli smartphone nfc bluetooth qui abbiamo un xperia t come funziona semplicemente appoggiando il chip nfc sulla testa dell'altoparlante come vedete il telefono si collega facciamo partire l'applicazione walkman possiamo regolare il volume dallo smartphone come potete in questo caso vedere e sentire l'audio non è assolutamente male possiamo poi comandare il volume dallo smartphone ovviamente poi lo stream audio avviene in bluetooth compatibile anche con i telefoni non nfc ovviamente non si potrà attivare e disattivare l'audio semplicemente sfiorando l'altoparlante ma bisognerà fare un pairing manuale vediamo com'è fatta c'è dentro l'altoparlante poi forma sferica pulsanti per il volume perché il volume è possibile comandarlo anche dalla dalla sfera dalla palla possibilità di utilizzarlo anche come viva voce per il telefono perché è dotato di microfono sotto i pulsanti per il controllo se accenderlo o spegnerlo e usare l'nfc qua a destra l'ingresso audio quindi lo possiamo usare anche con altre sorgenti analogiche e l'ingresso per la carica micro usb